La mattina appena sveglia, la prima cosa che faccio è guardarmi allo specchio, quasi come se avessi paura che durante la notte il mio viso sia cambiato. Tengo molto al mio aspetto e la pelle deve essere il mio biglietto da visita. Voglio comunicare un senso di freschezza e di energia non solo a me stessa ma anche agli altri. Per donare vitalità alla mia pelle, stendo sul viso Revitalizing Hydrating Serum di Laver, proprio come un rituale giornaliero. Eccole, come farei senza di loro. La mia carica in più vi aggiungo la Revitalizing Hydrating Serum. Oggi le porto a pranzo in uno dei miei posti preferiti a Milano, perché non c'è niente di meglio che sentirsi bene, iniziando a prenderci cura della nostra alimentazione. Viaggio moltissimo e dopo i lunghi voli la mia pelle risulta sempre stanca e senza vigore. In più, una città piena di smog come Milano non mi aiuta a risolvere questo problema. Appena torno a casa, non dimentico di usare il siero Revitalizing Hydrating Serum, che insieme alla crema idratante, rafforza i benefici per una pelle luminosa e curata fin dalla prima applicazione. Ora che la giornata è giunta al termine, non mi resta che godermi questa magnifica vista. Grazie a tutti.